Nasce a Sant'Alfio Etna Contemporanea, evento patrocinato, patrocino oneroso dall'Assessorato Regionale al Turismo e allo Spettacolo e dalla Fondazione Italia-Giappone, Ministero Affari Esteri, per inaugurare il primo spazio museale sull'Etna dedito interamente all'arte contemporanea, il MACE, Museo Arte Contemporanea Etna Radicamenti. L'inaugurazione è in agenda sabato 24 giugno alle 19 nei locali di Via Vittorio Emanuele VII. La cerimonia di inaugurazione del museo sarà lietata dall'azione drammaturgica dell'attrice Carmen Panarello insieme con il camouflage di body painting di Simone Stella e Giovanna Patanè, prevista la presenza dell'assessore regionale Anthony Barbagallo. L'Etna dunque non solo come vulcano più alto d'Europa ma come vetta della contemporaneità. L'idea di partenza è legata all'apertura inaugurale del primo museo d'arte contemporanea sull'Etna la cui sede è a Sant'Alfio, nell'intento di creare un evento artistico non solo per rilanciare turisticamente il territorio e l'immagine stessa dell'Etna ma soprattutto per dare l'idea di un museo aperto. Etna Contemporanea nasce da un'idea di Nilla Zeira D'Urso in qualità di esperta in materia di turismo, cultura e rapporti interculturali per il comune di Sant'Alfio. Si considera la presenza del museo una significativa risorsa culturale per aumentare l'attenzione dei visitatori nella scoperta delle opere d'arte esposte, pittura, disegni, installazioni, sculture, fotografie affinché il vulcano più alto d'Europa diventi anche una vetta della contemporaneità e della conoscenza. Il nome scelto per la manifestazione porta già esplicitamente l'immagine dell'Etna in un secolo che esprime linguaggi artistici innovativi. Gli artisti selezionati sono stati invitati a realizzare delle opere che esporranno al museo. L'installazione scultoria di Renzo Nucara e Carla Volpati sarà un omaggio al castagno dei Cento Cavalli, mentre l'artista giapponese Seita Kutaka Ayo Yama realizzerà in una tavola di legno l'immagine grafica iconica del paese di Sant'Alfio. Invece all'artista siciliano Domenico Pellegrino verrà dato spazio per una installazione luminosa. L'evento inaugurale sarà presentato questo pomeriggio alle 18 presso l'atro comunale del comune di Sant'Alfio, mentre già in questi giorni è visibile una divertente e coloratissima installazione di arte urbana per la via principale del paese.